Grande entusiasmo e forti ambizioni, è il clima che si respira attorno alla Gas Race Blue Energy Volley Piacenza che martedì, circondata dall'affetto dei suoi tifosi, ha iniziato ufficialmente la nuova stagione che dopo i tanti obiettivi raggiunti nel mercato estivo si prospetta di vertice. Per questo è alta l'autostima della società guidata da Elisabetta Curti, pur essendoci qualche pressione in più. Ho visto tanto entusiasmo nel voler iniziare l'allenamento, quindi la sensazione è molto buona, sicuramente dobbiamo aspettare e avere pazienza un po' perché come vedete i giocatori sono veramente pochi, ci sono più staff che i giocatori, ma questo è anche positivo, significa che tutti gli altri sono in nazionale, anche questi che sono qua sono stati eliminati dalle varie nazionali in ultimo, quindi la squadra è molto molto competitiva quest'anno. Tanti nazionali vuol dire che il valore della squadra è aumentato, ci sarà qualche pressione in più rispetto all'anno scorso? Le pressioni fanno parte dello sport, uno sportivo d'alto livello senza pressioni non l'abbiamo mai visto, quindi questo è stato già messo in preventivo. Le pressioni sono tutte positive, nel senso che se ci sono pressioni significa che come dici tu l'asticella si è alzato ulteriormente, quindi tutto questo ci fa solo piacere, abbiamo lavorato tantissimo per questo e siamo riusciti ad ottenerlo. Quindi siamo molto contenti e felici di questo inizio stagione e in bocca al lupo a tutti. La società ha lavorato tanto e ha investito tanto, però siamo riusciti ad avere dei grandi atleti e speriamo che l'anno vada bene. Iniziamo, iniziamo con un po' di pressione perché comunque abbiamo fatto dei grandi acquisti, quindi iniziamo con un po' di pressione addosso, però è giusto averla, significa che abbiamo creato qualcosa di buono e andiamo avanti e vediamo durante la stagione. Nel frattempo la Gas Haze continua la preparazione aspettando il rientro dei nazionali.